Avevamo rubato 4 milioni di euro al nostro protettore. Dal lavorare di notte. A godersi un mojito su un lettino al sole. Adesso sì che le abbiamo trovate. Le ragazze usciranno per navigare. Ma che meraviglia. Un massacro in mare. E il passato torna sempre. La paura che abbiamo provato ci resterà addosso. Io la provo ogni notte. Non mi lascio dormire. Sì, il passato torna sempre, quindi facciamola finita. Ho bisogno di far saltare la testa a Romeo. O vivono loro, o viviamo noi. E finché non le avrò ammazzate, non mi fermerò. È un tradimento così? Si perdona solo per amore. Ho bisogno di vedere quel cazzo di Neon della Snobias in fiamme nel deserto. Quel posto immondo non merita un altro finale. Chi è a conqueredmente nel deserto di CaetLife. Quiero ric Benefittura.